Spaccio di coca, asce, sce e marijuana. I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino in sei mesi di indagini sono riusciti a smantellare un vasto giro di droga sull'asse Napoli, Afragola, Grotta Minarda. Questa mattina 40 carabinieri in divisa in borghese hanno dato esecuzione a 10 misure cautelari nei comuni di Ariano, Grotta Minarda, Mirabella, Napoli, Afragola e Pescara. L'ordinanza è stata emessa dalla procura distrettuale antimafia e le accuse sono di traffico di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Le indagini condotte dai carabinieri arianesi, avviate a settembre 2017, si sono concluse a giugno 2018 e hanno consentito di smantellare il vasto traffico di sostanze stupefacenti. A uno degli indagati del napoletano viene contestato anche il tentativo estorsivo per il recupero di soldi, provento di spaccio. Gli indagati, operanti sull'asse Napoli, Afragola, Grotta, avevano ognuno un ruolo ben preciso. La piazza di spaccio principale era quella di Grotta Minarda ed era punto di riferimento di tanti giovani del posto e dei comuni limitrofi. Nel corso delle indagini, oltre agli arresti di oggi, sono stati arrestati in flagranza di reato complessivamente 13 persone che a loro volta si rifornivano dal gruppo di Grotta Minarda. Numerose le abitazioni degli indagati sottoposti a perquisizione, complessivamente sono stati sequestrati 40 grammi di cocaina, 500 di hashish e 618 di marijuana.